Un viaggio tra Como e Napoli che collega la figura di Plinio il Vecchio nel bimillenario della sua nascita e l'associazione Roneollus. Con l'evento e il percorso Pliniano-Imperiale, la prossima settimana verrà consegnato il profilo Pliniano, un oggetto celebrativo di design ideato dall'architetto Paolo Albano, alla protezione civile. La cerimonia è in programma lunedì 23 ottobre a Villa Gali, a Como, e mercoledì 25 ottobre all'osservatorio vulcanologico di Napoli. L'idea è stata quella di collegare la figura di Plinio, in quanto la mia associazione di Como e Plinio è nato a Como, con l'attività. Plinio si è immolato per la causa della protezione civile, andando a soccorrere la cittadinanza, quindi sul tema della protezione dell'ambiente, e la nostra associazione si occupa di temi proprio legati alla previdenza e alla prevenzione di fattori di rischio ambientali legati al tumore. Quindi il fil rouge che vuole collegare l'idea di questa iniziativa è proprio quello del tema della protezione ambientale, che mai come quest'anno è agli onori della cronaca. Con questo riconoscimento si vuole legare la figura di Plinio il Vecchio all'attività della protezione civile. L'idea è quella proprio di onorare l'attività della protezione recuperando la figura storica di Plinio, che in quanto ammiraglio della Marina Imperiale va a soccorrere la cittadinanza di Castellammare di Stabia, che è in pericolo per l'eruzione del vulcano. In quella sede lui muore proprio durante le azioni di salvataggio, e questo a tutti gli effetti si configura come la prima azione documentata di protezione civile. Il Club Italia Fiat 500 sarà il vettore del progetto, una carovana composta da autostorie che unirà Como a Napoli per il trasporto del riconoscimento. Si è creata questa carovana che accompagneranno questo vettore che è un furgone addobbato con il logo, e questi 500 anche loro avranno dei logo sul portiere. La scelta è stata fatta a tappa per coinvolgere un po' tutta l'Italia. Questa bellissima iniziativa promossa dall'Associazione Aierone, anche in cocomitanza delle celebrazioni del bimillenario di Plinio, proprio per dimostrare l'importanza di questo illustre cittadino come primo soccorritore, perché è stato il primo soccorritore della storia, come ben sappiamo, durante l'eruzione del Vesuvio e poi anche come figura scientifica.